Per la planziometra, ok? Cerchiamo di dare per la planziometra. Chi batte le mani per uno o non batte le mani per l'altro? Noi ne abbiamo giudicati pari, quindi sta a voi decidere chi vince. Non è per me che sono i due gruppi che per i nostri giudici sono stati i migliori in questo planziometro della bandiera, ok? E fino lì ci siamo. Rione, centro, applausi! Rione, consolata, applausi! E' difficile, è difficile, è difficile. Rione, centro! Buongiorno! 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 Grazie.